E ciao a tutti qui da Abel FC, in questo video vi voglio raccontare di questo ritorno di Casillas al Real Madrid. Iker Casillas ha fatto la storia del calcio, insieme a Buffon secondo me sono stati i migliori portieri al mondo, penso dagli ultimi 20-30 anni, io non penso di ricordarmi altri portieri così forti come loro, infatti Casillas insieme a Buffon hanno entrambi un record di clean sheet importante, addirittura Casillas ha neanche di più di clean sheet, cioè di partite dal 2000 senza subire il gore. È un calciatore che ha vinto il mondiale, come vedete qua, sono su Transfet Market, ha vinto il mondiale due europei e quando tu vinci un mondiale due europei entri nella storia del calcio in maniera importante pure. Poi ha vinto un sacco di campionati con Real Madrid, Coppe, ha vinto Champions, ha vinto veramente di tutto, infatti è un calciatore che mi piace molto anche perché è cresciuto nel tempo, cioè ha vissuto quattro vite calcistiche, perché se andiamo a vedere qua la sua carriera, ha vissuto le tappe, lo suo scalino in maniera graduale, come tutti i giovani secondo me devono fare, purtroppo oggi non è così, come sappiamo, bruciamo i tempi sempre, ma lui è passato dal giovenile al Real Madrid, diciamo che questa è la prima tappa, la prima parte della carriera, un calciatore forte che sa fare tantissime parate, pare a rigore, ma che va a giocare nel Real Madrid C, B, prima di andare in prima squadra. La seconda parte della sua carriera, diciamo che è quella più rosia, dove lui inizia a vincere tutto quello del Real Madrid, fino alle ultime due stagioni con il Real, dove inizia a essere messo in discussione, inizia ad avere problemi con la società, tanto è che inizia poi la sua, diciamo, terza parte di carriera, quella dove va a finire al Porto, quindi va mandato in prestito al Porto, anzi addirittura gratuito, viene proprio lasciato gratuitamente al Porto, come vedete qua, per 6 milioni il valore suo, ma gratuitamente lascia il Real Madrid e va al Porto, nel 2015. Al Porto ha vissuto comunque un periodo buono, perché aveva iniziato a giocare abbastanza bene, fino a quando non entriamo nella sua ultima parte di carriera, che è quella dopo l'infarto. Cioè lui ha avuto un attacco di cuore mentre si allenava, una notizia che mi ha colpito molto, perché a me mi è sempre piaciuto Casillas, e quindi quando ho saputo che aveva avuto questo infarto, ci sono rimasto male, vabbè, perché è una persona giustamente, ma capendo che è un professionista, un giocatore del genere, siamo rimasti un po' tutti, diciamo così, quando ho saputo che era andato in ospedale, perché ha rischiato di morire proprio dopo questo infarto qua. Ma è più giocato, soprattutto anche perché ha problemi, diciamo, personali, legati alla moglie, la giornalista Sara Carbonero, che come sappiamo ha dei problemi, una malattia grave, un cancro, quindi anche questa cosa ha influenzato, diciamo, la sua carriera. Però lui era stato straordinario e adesso torna al Real Madrid. E ora vi spiego il perché torna al Real Madrid. Bene, ho aperto questa notizia qui sul sito Goal, e la notizia è questa, il ritorno di Casillas è vice AD della fondazione Real Madrid. Infatti lui non è tornato come calciatore, anche se mi sarebbe piaciuto vederlo ancora in campo, però chiaramente per l'età e per vari motivi, come vi dicevo prima, personali e anche fisici, lui ha deciso di tornare al Real Madrid per fare una cosa, secondo me, molto importante, che non è una cosa scontata, cioè aiutare le persone in difficoltà. E infatti questo ente, andiamo giù e vi faccio vedere questo, ovviamente qui racconta che appunto ha vinto 19 titoli in carriera in 25 anni, appunto, è qualcosa di incredibile. Infatti questo ex portiere è diventato il vice amministratore delegato della fondazione Real Madrid, che organizza e si occupa di portare avanti i progetti del club in varie parti del mondo, soprattutto con i bambini. Infatti questo ente, questa società, possiamo dire, questa fondazione, serve per portare il calcio in tutto il mondo. Poi io non entro in merito a se le cose le fanno sempre bene, se ci sono cose dietro, non lo so, però è chiaro che Iker prenderà un compenso per fare queste cose, credo, penso che sia quasi sicuramente così, però non è da tutti andare, dopo finire una carriera come la sua, e diventare appunto il vice amministratore di una fondazione che aiuta i bambini poveri in giro per il mondo, aiutando appunto, creando scuole calcio e altre cose. Quindi complimenti a Casillas per questa cosa, è adatto molto al calcio e spero che riesca ad aiutare più persone possibili, appunto, facendo questa cosa. E voi cosa ne pensate di Iker Casillas? Vi è piaciuto, vedo lì in campo, vi piace il personaggio? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto, iscriviti sul canale, è gratis, così mi vedi anche in altri video, se vuoi, chiaramente, se vuoi, se mi vuoi vedere, se no, amen. E ci vediamo qui da Aved, AFC. A presto, ciao!